Come è il Matador Group? Matador Group, una società che ha più società che si occupano con altre cose, ma Core Business è Matador Automotive, cioè la roba meccanica di ferro, di lamiera per le macchine. Per esempio, noi abbiamo a Bravo una grande società dove sono, dico semplicemente, presse che pressano lamiera per la macchina. Poi facciamo tutte le cose che riguardano ferro per le macchine. Questo è Core Business a Bravo dove abbiamo una produzione di serie. Poi abbiamo anche produzione a Tunizza dove non è un lavoro di serie, ma facciamo ordini di visura. C'è linee, per esempio abbiamo fatto una linea per Alfa Romeo con una società di Pisa, Tecnomatic, dove poi Alfa Romeo userà in loro produzione. Poi siamo anche specializzati per altre linee per Automotive. I pneumatici? I pneumatici, adesso la maggioranza Continental, loro si arrangiano tutti da solo. Abbiamo una partecipazione del 24%, ma è un d'accordo da passato. Ma Matador, come Matador, come titolare di Matador Automotive, non entrano più in Matador Continental. Grazie a tutti.